Il 23 febbraio siamo stessi in piazza per manifestare il nostro dissenso contro quello che sta succedendo in Palestina. Un genocidio, un massacro di gravità inaudita, dimenticato, se non peggio, da tutta la nostra politica e ancor più dal nostro governo. Non ne potevamo più, non potevamo più sentirsi complici e volevamo manifestare per esprimere chiaramente e con forza il nostro dissenso e lo sgomento per la situazione della popolazione palestinese. Eravamo cento, cento ragazzi, qualche universitario, molti liceali e alcuni studenti delle medie che manifestavano insieme a noi. Per chi non lo sapesse, un corteo di cento persone è un corteo piccolo, quasi deludente. Siamo partiti da Piazza Dante, dirigendoci verso Piazza dei Cavalieri, ma già in via San Frediano, una via stretta, abbiamo trovato una camionetta con la squadra antisommossa ad aspettarsi. Polizzotti con caschi, scudi e manganelli, in riga e compatti, mentre alle nostre spalle si hanno raggiunto delle volanti della polizia. Bloccandoci, davanti alla cancellata del liceo artistico. Abbiamo alzato le mani in segno di pace. Abbiamo fatto capire che eravamo pochi e non avevamo nessuna intenzione violenta. Abbiamo chiesto come mai ci avessero bloccati. Non ci rispondevano. Abbiamo più volte cercato di capire, ma non ci hanno mai risposto. E poi la prima carica. La prima carica che ci ha spinto indietro di tre metri. No, non ci hanno spinto indietro con gli scudi, ma con le manganellate. Da quel momento è scoppiato il panico. Io ero indietro e ho aiutato i bimbi più piccoli ad andarsene, mentre altri, più avanti, sono stati colpiti duramente, alcuni seriamente feriti, altri presi e portati via. E non crescendo incontrollato, non hanno risparmiato colpi ai ragazzi che erano davanti. Anche a quelli che cercavano, evidentemente, di arretrare con le mani alzate. Hanno colpito con violenza, con apparente cattiveria, quasi con sadica soddisfazione. Hanno colpito e ferito ragazzi, per la maggior parte minorenni, disarmati e con le mani alzate. Non hanno fatto passare l'ambulanza per una ragazza ferita alla testa. Una è caduta ed è stata presa dal giacchetto mentre cercava di rialzarsi. E colpita ripetutamente, come hanno mostrato molti video. Il tutto, senza mai nemmeno un tentativo di un dialogo. Senza mai degnarsi di una risposta. Al contrario di quel che ha dichiarato il ministro Piantedosi. Non potevamo fare altro che scappare. E a un certo punto, le volanti che ci chiudevano da dietro si sono dileguate. E così ce ne siamo andati. Loro ci hanno seguito per tutta via Sanfrediano. E poi si sono fermati. Questo avvenimento ha avuto una visibilità mediatica enorme, con riscontri sia positivi che, purtroppo, negativi. Abbiamo letto di tutto. Sia messaggi di solidarietà. Sia falsità. Falsità che vogliamo sfatare qui ed adesso. Sì, deputato Ziello, eravamo incappucciati. Pericolosi cappucci dei nostri giacchetti e delle nostre felpe. Pioveva. E come tutti i comuni mortali, ci siamo coperti. No, i poliziotti non ci hanno detto neanche una parola. Non ci hanno ritenuto degni di un dialogo, di un confronto. Non hanno cercato una mediazione. L'abbiamo provato noi, solamente noi. Ma siamo stati bloccati da un muro silenzioso di uomini indivisanti sommossa. Considerati bestie, da scacciare e schiacciare. E come osate paragonare un polizotto che è caduto facendoci male a una gamba con 13 ragazzi disarmati al pronto soccorso? Come osate parlare di feriti da imboilati, di scontro alla pari? No, non avevamo nessuna intenzione di andare in sinagogo o al cimitero ebraico. E anzi, vogliamo ricordare che noi non siamo antisemiti. Siamo ragazzi che lottano contro le azioni portate avanti dal governo israeliano e da quello italiano. Vorrei ricordarlo perché questa differenza, evidentemente scontata, soprattutto per politici esperti e maturi come voi, sembra stranamente sfuggire alla maggioranza che si lamenta delle strumentalizzazioni altrui. Insomma, tutte queste falsità non reggono, non possono leggere. Basta ragionarsi sopra, con onestà. Molti esponenti del governo, con il ministro Salvini in prima linea, si sono espressi dicendo «Non toccate le forze dell'ordine, sono un patrimonio sacro», ribadendolo più volte. Forse non è bastato il richiamo del presidente Mattarella. Forse non erano sufficienti le sue parole. Forse bisogna ribadire l'ovvio. «Non toccate gli studenti, non toccate il futuro dello Stato italiano, il futuro del paese che dite tanto di amare. Ringraziate ogni giorno i ragazzi che sono ancora qua, che non hanno paura e che lottano per un paese migliore. Ragazzi che meritano, prima di ogni altra cosa, le vostre scuse. Vi lamentate dei giovani. Dite che sono dei vandali. Bloccate in tutti i modi la loro voce, anche violentemente, e continuate a lamentarvi del distacco che hanno dalla politica odierna. Eppure, quando vengono massacrati, li attaccate. Dite che è colpa loro, anche quando è del tutto evidente che sono state raccontate bugie. Bugie non solo nelle interviste rilasciate dai maggiori esponenti politici, che forse non conoscono bene Pisa, che vedono da lontano, ma anche negli interventi del Consiglio Comunale di lunedì. Alcuni di noi hanno partecipato e hanno assistito ad un teatrino imbarazzante riconducibile a nulla. Non ci sono state prese di posizione da parte della maggioranza, se non una difesa della polizia, un vago richiamo alla necessità di rispettare le indagini e mille scuse per condannare i ragazzi che manifestavano con paralleli totalmente campati per aria. Siete rimasti così attaccati al vostro partito, alle indicazioni ricevute dall'alto, al ruolo che vi hanno imposto, o peggio, vi imponete, da perdere ogni onestà intellettuale. Con noi davanti è una delle cose peggiori che potevate fare. E no, non mi soddisfano le parole del sindaco. No, non mi soddisfa l'ordine del giorno che è stato approvato, perché è vago, inconsistente e ridicolo. E la cosa peggiore è che ci avete fatto perdere del tutto la fiducia nelle istituzioni cittadine. E questa è una sconfitta, bruciante. Nessuno di noi chiede di andare indietro nel tempo o di dimenticare quello che è successo. Ve lo dovete ricordare. Dovete guardare i video, ascoltare le testimonianze, guardarci in faccia e prendere dei provvedimenti immediati. Dovete riconoscere il problema. Non possiamo accontentarsi di una superficiale vicinanza senza un provvedimento adeguato. Chiudo dicendo che noi non ci fermeremo. Avete provato a bloccarsi, a spaventarsi, ad umiliarsi. Ma non ci siete riusciti. Continueremo a manifestare, a lottare contro le ingiustizie e a guardarvi in faccia. Noi sì, senza paura. Pensavate che questa oppressione ci potesse in qualche modo fermare. Abbiamo già dimostrato venerdì sera che non sarà così, riempendo pacificamente la piazza che c'era stata chiusa con la violenza. Ma ve lo confermiamo di nuovo in questa sede. Non ci avete fermato. Anzi, ci avete dato un motivo in più per scendere in piazza, chiedere giustizia per i manifestanti, chiedere provvedimenti adeguati contro chi si è abbandonato alla violenza. Capisco che a volte uscire dai vostri ideali politici di partito sia difficile. Ma se vi fermaste un solo secondo ad ascoltarsi davvero, a sentire la nostra voce e le nostre ragioni, capireste che non siamo vandali. Siamo ragazzi che lottano per una causa comune. Siamo i figli e il futuro di ogni paese democratico che si rispetti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.